Una volta creato il modello strutturale, entriamo nella fase operativa relativa alle analisi elastiche. In questa fase, il modello è costituito dagli elementi strutturali del telaio equivalente, nodi e aste, che sono stati generati automaticamente sulla base del precedente modello costruttivo. E' apparsa una nuova scheda della barra multifunzione che contiene i comandi utili a questa fase. Da qui è possibile ad esempio disattivare la visualizzazione dei nodi, modificare la visualizzazione delle aste, attivando ad esempio i solidi, disattivare la visualizzazione dei solai e modificare la colorazione, scegliendo ad esempio una colorazione per materiale. In qualsiasi momento è possibile selezionare un elemento, nodo o asta, e modificarne le proprietà, tra cui cariche applicati e vincoli. Sarebbe impossibile descrivere in modo esaustivo tutte le proprietà disponibili, quindi in questo video ci limiteremo ad apportare le modifiche necessarie per l'analisi del caso studio. Nella scheda progetto del navigatore notiamo che è comparso il gruppo dei livelli, che sono stati generati a partire dai piani del modello. La quota di ogni livello corrisponde alla sommità del piano. Nelle proprietà del livello è possibile specificare se si tratta di un impalcato rigido oppure no. In questo caso i solai di piano sono in latero cemento, quindi definiamo tutti i livelli rigidi, eccetto l'ultimo, relativo al piano copertura, per il quale disattiviamo la rigidezza in direzione X e in direzione Y. Per quanto riguarda la rigidezza degli impalcati, vi sono diverse opzioni. Ad esempio, all'interno di un livello non rigido, è possibile irrigidire singoli campi di solaio per descrivere al meglio la situazione reale. In qualsiasi momento è possibile effettuare un check-up dei dati per controllare la correttezza della modellazione strutturale. Le eventuali segnalazioni sono fornite in una scheda dedicata dove per ogni voce è possibile consultare gli elementi interessati. In questo caso ci viene segnalato che esistono travi in CA con armatura assente o mal definita. Le selezioniamo e notiamo che si tratta delle travi di fondazione e delle due travi che abbiamo inserito al piano terra e al piano primo per separare due campi di solaio. Per queste travi potremmo specificare l'area dell'armatura longitudinale e trasversale nella finestra delle proprietà, ma ai fini di questa dimostrazione ci limitiamo ad escludere queste asse dalle verifiche ipotizzando che siano sempre in grado di resistere alle azioni cui sono soggette. Tornando alla scheda segnalazioni troviamo una voce che segnala la presenza di maschi murari di piccola altezza. Li selezioniamo e vediamo che si tratta dei muretti bassi sotto gronda che abbiamo inserito all'ultimo piano per poter definire le falde di copertura. La funzione di questi maschi bassi e tozzi è quella di trasferire il carico della copertura alle strutture sottostanti. Si tratta quindi di elementi fittizi i quali devono essere esclusi dalle verifiche in modo da non compromettere la reale capacità della struttura. Rieseguiamo ora il check-up dei dati e notiamo che diverse segnalazioni sono state risolte mentre quelle che sono rimaste non richiedono alcuna azione da parte nostra. Passiamo quindi alle modifiche necessarie per completare la modellazione strutturale. Partiamo dalle aste di fondazione. Possiamo selezionare velocemente tutte le aste relative a travi di fondazione sfruttando la scheda Trova. Qui è presente una lista di tutte le aste del modello con le rispettive proprietà ed è possibile applicare dei filtri per selezionare tutte le aste che soddisfano certi requisiti. In questo caso ci portiamo alla colonna relativa alla proprietà fondazione e applichiamo un filtro in modo da considerare tutte le aste per cui questa proprietà è vera, cioè le aste di fondazione. A questo punto la lista comprende le sole aste desiderate quindi cliccando su Seleziona tutto le selezioniamo in blocco. Per queste aste possiamo specificare il valore della costante di Winkler definire la larghezza dell'appoggio sul terreno e il valore del carico limite del terreno. In questo caso aumentiamo leggermente la larghezza dell'appoggio sul terreno ipotizzando che sotto la trave sia presente un magrone che ripartisce i carichi su una superficie più ampia rispetto all'impronta della trave. Definiamo quindi una larghezza pari a un metro e mezzo. Sfruttando la scheda Trova selezioniamo ora tutte le fasce murarie andando a filtrare per tipologia. Per questi elementi è possibile specificare la resistenza a trazione offerta da elementi come l'architrave o un eventuale cordolo. Ai fini di questa dimostrazione scegliamo di ignorare la resistenza a trazione delle fasce che saranno quindi in grado di accoppiare i maschi adiacenti solo dal punto di vista traslazionale. Per quanto riguarda la copertura le travi che abbiamo inserito per definire le falde devono essere impostate infinitamente rigide altrimenti svilupperanno spostamenti eccessivi. Per evitare che questo sistema rigido condizioni la struttura sottostante andiamo a modificare i vincoli delle travi di displuvio inserendo delle cerniere in corrispondenza della gronda. Deselezioniamo quindi la trave di colmo e impostiamo un vincolo tipo cerniere incastro per le travi di displuvio. Abbiamo così inserito una cerniera all'estremo iniziale perché l'estremo iniziale è proprio quello in corrispondenza della gronda come è evidente dal simbolo del sistema di riferimento sull'asse dell'asta. Con questo abbiamo completato le modifiche da apportare al modello. Prima di eseguire le analisi è necessario definire l'azione sismica e i parametri di calcolo. Clicchiamo quindi su azione sismica. Innanzitutto occorre definire l'ubicazione del sito specificando le coordinate geografiche. Quindi il programma individua automaticamente i quattro punti del reticolo sismico da utilizzare nel calcolo della pericolosità sismica di base per interpolazione lineare. I parametri relativi alla pericolosità sismica di base che caratterizzano l'azione sismica in assenza di amplificazioni stratigrafiche e topografiche sono forniti nella tabella sottostante per nuovi valori notevoli del periodo di ritorno a TR. Per definire la risposta sismica locale sono disponibili due approcci. Un approccio semplificato secondo normativa e un approccio rigoroso con analisi RSL. L'approccio semplificato richiede di specificare la categoria di sottosuolo, la categoria topografica e il corrispondente coefficiente di amplificazione. In base a queste impostazioni i parametri relativi alla risposta sismica locale vengono aggiornati automaticamente. Qualora fossero disponibili analisi approfondite della risposta sismica locale sarebbe possibile attivare il check relativo all'approccio rigoroso e specificare i parametri sismici richiesti nella tabella sottostante per i tempi di ritorno considerati nell'analisi. In questa dimostrazione seguiremo l'approccio semplificato secondo normativa. Nella scheda struttura una volta specificata la vita nominale dell'edificio e la classe d'uso che in questo caso è la classe 3 vengono calcolati i tempi di ritorno dell'azione sismica associati ai vari stati limite considerati nelle analisi. I relativi parametri degli spettri di accelerazione orizzontale e verticale vengono forniti nella tabella sottostante. Nella scheda componenti è possibile definire tra le altre cose i fattori di comportamento che determinano lo spettro di progetto in caso di analisi sismiche lineari. Infine, nella finestra grafica sulla destra è possibile visualizzare gli spettri elastici di progetto per i vari stati limite e per le tre direzioni x, y e z. Passiamo ora all'impostazione dei parametri di calcolo. Nella scheda generale si sceglie di eseguire oltre all'analisi modale anche l'analisi statica non sismica e l'analisi sismica statica non lineare cioè l'analisi pushover. Passiamo quindi alla scheda dell'analisi pushover. Data la complessità dell'analisi non lineare inizialmente è opportuno elaborare solo due curve in modo da calibrare al meglio i vari parametri. Consideriamo quindi solo la distribuzione unimodale un incremento di taglio pari a 50 kN e le direzioni positive x ed y. Per il momento ci limitiamo a queste due curve rimandando ad un passo successivo l'elaborazione di curve più complesse che tengono conto ad esempio degli effetti dell'eccentricità accidentale o del sisma verticale. Inoltre, impostiamo come punto di controllo il baricentro del livello 3 in quanto lo spostamento dell'ultimo piano cioè la copertura non è rappresentativo della reale capacità della struttura. Nella seconda scheda dei risultati pushover rispetto alle impostazioni di default scegliamo di non ignorare le aste sul suolo elastico. In questo modo saranno svolte le verifiche in fondazione e la curva pushover sarà interrotta nel caso in cui le tensioni sul terreno dovessero superare la capacità portante del terreno stesso. A questo punto siamo pronti per eseguire le analisi. Una volta eseguite le analisi una segnalazione ci informa subito che è stata richiesta un'analisi pushover con distribuzione unimodale ma un modo fondamentale di vibrazione a massa partecipante inferiore al 60%. Consultiamo quindi i risultati dell'analisi modale svolta al primo passo dell'analisi pushover. Notiamo subito che effettivamente il modo fondamentale in direzione Y ha una massa partecipante del 53,7% quindi inferiore al 60%. Nel caso di edifici esistenti in muratura la normativa corrente autorizza comunque ad eseguire un'analisi pushover a patto che si consideri la distribuzione lineare e la distribuzione uniforme. Questa sarà quindi una prima modifica da fare nei parametri di calcolo. Consultiamo comunque i risultati dell'analisi pushover per verificare se l'incremento di taglio utilizzato può essere accettabile. Per la curva in direzione più X notiamo che la forza massima è di circa 1525 kN mentre per la curva in direzione più Y la forza massima è proprio di 1500 kN. Il nostro incremento di taglio pari a 50 kN è quindi uguale a un trentesimo della forza massima. I valori consigliati vanno da un ventesimo a un cinquantesimo quindi l'incremento di taglio è accettabile. A questo punto torniamo nei parametri di calcolo per richiedere l'elaborazione di altre curve pushover. Tra le distribuzioni di forze scegliamo la distribuzione lineare e la distribuzione uniforme. Manteniamo l'incremento di taglio di 50 kN attiviamo tutte le direzioni e consideriamo gli effetti dell'eccentricità accidentale scegliendo di elaborare le curve con momento torcente aggiuntivo. Rieseguiamo quindi le analisi. Visualizziamo ora i risultati relativi alla prima curva elaborata quella in direzione più X con distribuzione A lineare e momento torcente positivo. Scorrendo i vari passi della curva pushover è possibile apprezzare la deformazione della struttura la variazione dello stato degli elementi che passano dalla fase elastica alla fase plastica fino a raggiungere il collasso per superamento della deformazione angolare limite. Inoltre il simbolo della lesione sull'asse dell'asta ci dice qual è il meccanismo di rottura che ha provocato la crisi dell'elemento. In questo caso notiamo che il taglio per fessurazione diagonale è il tipo di crisi più diffuso. Anche in analisi pushover come nelle analisi lineari è possibile visualizzare ad ogni passo della curva i diagrammi di sollecitazione. In questo caso stiamo visualizzando il momento con planare MY. Concentriamoci sull'asta selezionata per la quale vengono rappresentati i valori del diagramma. Scorrendo i vari passi dell'analisi incrementale notiamo che il momento flettente alla base del maschio aumenta fino a raggiungere la resistenza ultima in corrispondenza del passo 22. A questo punto viene inserita una cerniera plastica e l'asta viene definita parzialmente plasticizzata in quanto è andata in crisi solo all'estremo iniziale della luce deformabile. Proseguendo notiamo che l'asta mostra una crisi a taglio per fessurazione diagonale quindi manterrà questo stato di sollecitazione fino al raggiungimento della deformazione angolare limite. Nella scheda relativa alle curve pushover possiamo leggere la capacità di spostamento della struttura allo stato limite di collasso da cui si ricava la capacità di spostamento allo stato limite di salvaguardia della vita. Grazie alla curva di capacità di un oscillatore monodimensionale equivalente si ottiene la domanda di spostamento della struttura. In questo caso la verifica non è soddisfatta in quanto la capacità pari circa a 32 mm è inferiore alla domanda di circa 39 mm. Visualizziamo ora la sintesi dei risultati di tutte le curve elaborate per le quali è stato calcolato l'indicatore di rischio sismico ZE cioè il rapporto tra capacità e domanda in termini di PGA. ordiniamo le curve per valori crescenti dell'indicatore e notiamo che tutti gli indicatori evidenziati in rosso sono quelli inferiori a 0,8 che è l'obiettivo previsto per l'adeguamento sismico di edifici in muratura. Le curve con indicatori minore sono quelle nella direzione trasversale dell'edificio in particolare la peggiore è la curva con distribuzione E direzione più Y e momento torcente positivo la selezioniamo per visualizzarla nel grafico. Nella scheda report alla voce storia evolutiva possiamo leggere la causa del termine di costruzione della curva di capacità in questo caso è il collasso sotto azioni con planari di tutti i maschi murari del paramento Y3 al piano 2 Tornando alla vista del modello notiamo che la deformazione della struttura è sbilanciata verso destra proprio in corrispondenza della parete Y3 cioè la terza parete significativa in direzione Y All'ultimo passo della curva pushover notiamo che tutti i maschi della parete Y3 sono plasticizzati o collassati in contrasto con i maschi della facciata opposta che sono ancora in fase elastica Questo tipo di considerazioni ci permette di stabilire una priorità per eventuali interventi di rinforzo che migliorino la sicurezza dell'edificio A questo punto passiamo alla fase successiva della nostra valutazione che consiste nell'analisi cinematica dei meccanismi di collasso locale torniamo alla scheda modello e facciamo clic su crea modello cinematico grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti